Dottor Danilo Mazzacani, segretario generale di Goal, società scientifica oculista ambulatoriali. Quanto l'innovazione consente di andare avanti? Quindi com'è cambiata la figura dell'oculista? La figura dell'oculista è in fase di cambiamento. L'innovazione tecnologica è un tema da cavalcare. Non possiamo far finta di nulla. Bisogna agire con buon senso facendo prevalere il primato dell'uomo sull'economia, utilizzando al meglio le risorse economiche ma mantenendo il ruolo della figura del medico oculista come figura umana, organizzatrice e con buon senso. La neurooftalmologia è una nuova branchia e una nuova professione. Di cosa si tratta? La neurooftalmologia è il ruolo del medico che fa da tramite tra il neurologo e l'oculista. Attualmente è rivestito dalla figura dell'oculista e il carattere interdisciplinare di queste due branche riveste una grande importanza perché sono diverse le patologie di frontiera tra neurologia e oculistica, la miastenia gravis, la sclerosi multipla, le cefalee che costituiscono un argomento di notevole importanza e presenza nella vita lavorativa quotidiana. CIS Medici Lombardia collaborano a livello europeo. Il terzo programma quadro sanità pubblica crea sinergie. È importante creare sinergie tra medici di varie specialità? Quanto si lavora in team multidisciplinari? Sicuramente è da intensificare il rapporto interdisciplinare e multidisciplinare fra varie branche specialistiche. Possiamo citare oculisti e neurologi, oculisti e diabetologi, oculisti e dermatologi e sicuramente anche l'apertura all'esterno dei limiti territoriali italiani, europei e internazionali è di grande importanza per uno scambio di opinioni e di pensieri. Abbiamo delle ottime eccellenze nell'ambito giovanile, quindi il ricambio generazionale va sicuramente supportato, va ampliata la formazione dei giovani all'estero perché è di grande utilità, però poi dobbiamo far sì che queste giovani eccellenze, colleghi e colleghe ritornino in Italia per continuare a fare andare avanti la macchina scientifica italiana.